Si chiude senza cuti il 2015 delle Likatesi impegnate nel calcio e nel basket. Il Likata saluta l'anno con una sconfitta esterna e interrompe a 11 la propria striscia di risultati utili consecutivi. A Gela matura un 2-1 per i padroni di casa dell'Atletico, che in virtù del successo accorciano le distanze in classifica proprio da Likata. Di Puccio la rete del momentaneo pareggio giallo-blu sul finire della prima frazione di gioco. A pesare è stata anche l'espulsione, a 20 minuti dal termine di Martorana, reo di un fallo di reazione ai danni dell'estremo difensore dell'Atletico Gela. La tappa di Gela era considerata già alla vigilia particolarmente importante per il proseguo del campionato, anche alla luce delle prossime gare che sottoporranno in Likata un vero e proprio tour de force con le trasferte di Ragusa e Canicattì e l'incrocio a Liotta con l'inarrestabile Capolistanissa. In terza categoria pareggio senza reti per l'Atletico Likata, che non va oltre lo 0-0 al Dino Liotta contro il Città di Montallegro. Gli uomini di Mr. Gaetano Profumo falliscono, così la possibilità di centrare il poker di vittorie casalinghe consecutive. Nel basket, successo esterno per la vicecapolista Patti, che spugna il palafragapane di Likata, al termine di un match vibrante chiuso sul 67-78. I messinesi hanno saputo gestire una grande partenza, per mezzo della quale sono riusciti a prendere un buon margine sulla studentesca. Distanze importanti già all'intervallo con il roster di coach Sidoti avanti di 12. Musica invariata anche al rientro dagli spogliatoi, con Patti a fare l'andatura e la studentesca che non è mai riuscita a rientrare in gara. Alla fine è successo meritato per Patti, che c'entra due punti pesanti e può così continuare l'inseguimento alla capolista Cefalù. Grazie. Grazie.